Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo face to face di Simply Beats. Oggi con noi Gaetano Nardo di Premia Finance. Buongiorno Gaetano. Buongiorno Flavio, buongiorno a tutti. Gaetano ormai è un abitué dei nostri studi e abbiamo imparato a conoscere Premia Finance nel tempo, società di diciamo la prima a essere quotata in borsa, che nasce strutturandosi prevalentemente sulla cessione del quinto e andando a integrare nel proprio business ulteriori linee di prodotto dal mutuo all'assicurativo e quant'altro. Gaetano, mese scorso a ottobre avete fatto uscire la semestrale, come è andata questi primi mesi dell'anno? No, devo dire decisamente bene, abbiamo pubblicato i nostri dati dove diciamo ci siamo siamo cresciuti su tutte le linee di prodotto, il fatturato è cresciuto, è cresciuta la produzione, quindi pian pianino sembra di ritornare diciamo agli anni passati. Quindi anche rispetto all'anno passato? Rispetto all'anno passato in termini di fatturato siamo cresciuti in questo semestre più del 12% e soprattutto l'Ebida è cresciuta tanto quindi che supera il 50% rispetto ai sei mesi dell'anno prima, quindi si vede una netta ripresa del mercato, della nostra società. E quindi in proiezione ci sarà una buona chiusura d'anno? Sì, diciamo di sì anche perché devo dire il secondo semestre sta andando meglio del primo e quindi prevediamo una chiusura decisamente positiva. Hanno all'insegna appunto del diciamo di notizie positive anche riguardo all'acquisizione della società di mediazione credizia, credito familiare che avete annunciato anche questo al mese scorso e che dovrebbe andare in chiusura per dicembre. Sì, per la metà di dicembre. Sì, credito familiare non è la prima società di mediazione che acquisiamo, abbiamo già in pancia prestito più anch'essa anche questa società di mediazione. Credito familiare diciamo si annovera diciamo in quelle società che faranno parte del nostro progetto. Vorrei spendere proprio due parole sui imprenditori che hanno condiviso questo progetto. Allora la società nasce dalla fusione di due realtà agenziali, capitanate se così vogliamo dire da un lato da un abruzzese Daniele Rosini, grande amico e conoscente da veramente tantissimi anni e dall'altra parte la società agenziale di Domenico andamo anch'esso di tantissima esperienza nel settore del quinto, nello specifico, ci tenevo a dire questo proprio perché queste operazioni nascono prima tra gli uomini, tra le persone. Noi vogliamo fare delle operazioni dove fondamentalmente bisogna trovarsi bene tra gli imprenditori e mi sento di dire sia nella prima operazione che in questa seconda abbiamo prima scelto gli uomini e poi le società. Condivideremo un progetto di crescita importante, hanno un modello di business, noi acquisiamo anche a parte gli uomini che come dicevamo è fondamentale in un progetto comune, abbiamo anche scelto queste società perché hanno dei modelli di business diversi da quelli di premia e quindi complementari. Poi questo modello di acquisizione serve un po' per cercare di far crescere i fatturati di tutte le società che vengono a far parte del gruppo e ottimizzare invece il lato dei costi. Certo, nascono principalmente per questo da un lato, per razionalizzare, cercare di razionalizzare al massimo i costi che oggi è una componente importante per far bene e dall'altro cercare di sfruttare le migliori condizioni di mercato. Nel 2024 avete concretizzato questa acquisizione ma ce ne sono altre che state ipotizzando, che arriveranno a chiusura o che comunque sono progetti in itire? Allora quest'anno diciamo visto che siamo quasi alla fine, l'operazione che concretizzeremo sarà quella di credito familiare. Non ti nascondo Flavio che sul tavolo abbiamo diverse operazioni che stiamo valutando. Bene, allora ci saluteremo come al solito dandoci un appuntamento fra sei mesi con l'anno nuovo per verificare un po' come si è chiuso l'anno, andare ad analizzare i dati della chiusura del 2024 e magari ci racconteremo anche qualche nuova acquisizione. Con molto piacere. Grazie. Grazie a te Flavio. A presto. Grazie a tutti.